Ciao a tutti ragazzi bentornati da Carmi Special, siamo sulla Carmi Specials League ovvero il Fanta Calcio con voi iscritti, per chi non fosse ancora iscritto trova tutti i link in descrizione metterò anche il link della pagina Facebook di webfantacalcio.it in modo tale da restare sempre aggiornati sul Fanta Calcio quindi ragazzi non lasciate l'occasione e mettete un like mettete anche un like al video se volete che io pomeriggio vi carichi anche il resoconto del mio Fanta Calcio quello appunto fatto con gli amici detto questo andiamo a vedere la mia formazione nella quinta giornata del nostro Fanta Calcio andiamo a vedere in realtà se non sbaglio è la nostra terza giornata in ogni caso ragazzi andiamo a vedere la mia formazione con assist di Kolarov, gol di Rodríguez che per i difensori vi ricordo vale 4 poi un gol subito da Andanovic, un assist di Perotti, doppietta di Zeko che mi sta facendo recuperare un volto di punti e poi Icardi in attacco per un 85.5 che non è niente male andiamo a vedere invece la mia classifica sono in 65esima posizione ho recuperato ben 92 posizioni quindi saluto anche Salute Empton, il gioco di parole di Carlo99 e Real Ambedusa di Gio004 appunto che sono vicini a me andiamo a vedere le prime tre squadre di questa giornata Fovea Imperat che ha fatto ben 98 punti di Zenec De Zeman che fa anche lui il Fanta Calcio addirittura poi salendo un 0.2 di Andrea Alzano che ha fatto 97 e Fluffy FC che ha fatto 96.5 andiamo a vedere le loro formazioni Fovea Imperat aveva De Vrij e Rodriguez in difesa Dandaroba, assist di Kolarov, Giorginio e Laxalt e poi Belotti, Calleon e Icardi in attacco davvero niente male Salendo 0.2 oltre ad avere Rodriguez, Ilicic che ha fatto tantissimo praticamente che si, assist di Perotti, Belotti, Mertes ma attenzione alla panchina perché aveva De Nuti con l'automol e Gomez con la doppietta quindi veramente qualcosa di assurdo e in più Fluffy FC con Koulibaly e Rodriguez in difesa assist di Kolarov, assist di Amsic e di Perotti gol di Ilic e poi Belotti, Icardi e Mertes quindi anche questa è una gran formazione andiamo a vedere la classifica generale dove c'è Salvador Consol che Consolida appunto il suo primo posto poi Ziparo, FFC Ziparo di Henry 2092 e poi Ignorantin di Loris Belluoccio insieme a Rogandi di Steph75 se non sbaglio che sono appunto le prime posizioni quindi ragazzi piano piano vi recupererò se non sbaglio a 14 punti circa dalla vetta quindi sto recuperando davvero in maniera veloce se non siete appunto ancora iscritti voi iscrivetevi perché come vedete è facile recuperare in questo tipo di fantacalcio essendo anche lunghissimo e tra l'ottava e la nona ci sarà anche il mercato dove appunto potrete magari riparare a qualche errore che avete fatto potete sostituire qualche giocatore detto questo ragazzi lasciate appunto un like ditemi in che posizione siete in modo tale da andare a vedere anche la vostra squadra iscrivetevi se non siete ancora iscritti alla prossima ciao ciao